Abbiamo la confezione, il pacco appare integro, vi sono alcune aperture nel nylon di copertura, nel fogliettino di copertura, probabilmente sono state rimosse delle bolle accompagnative, dei documenti accompagnativi. Il sigillo qui sembra integro, quindi provvediamo all'apertura dello stesso. Abbiamo un po' di difficoltà, vediamo subito che cosa abbiamo all'interno di questa confezione. Troviamo la note, garanzia e vari documenti, un libretto della Sony con gli accessori vari, vari manuali esplicativi, c'è il tedesco, lingua non conoscibile, non ricomincio olandese, italiano e francese. Documentazione varia e altre informazioni che poi andremo a vedere il software legato. Ecco come si presenta all'interno. Togliamo cinghia, cavo USB, presa per la ricarica con uscita italiana, questo è il carica batteria, la pila, batteria, obiettivo, questo è l'obiettivo 1650, molto solido, molto solido. e finalmente lei l'ha tanto sospirata a 67. Massiccia, massiccia, veramente massiccia. bella impressione, ci sono i vari slots, questo è per la memoria, batteria, eccezionale. Ecco qua, vedremo se sarà possibile postare qualche prova a breve. Grazie.